E bella sposina fa sesso con un tredicenne e resta incinta, ma pensa che è rimasta incinta da suo marito perché questa bella sposina ha il marito, capito? Allora faceva le cose sia col marito che col tredicenne. Quando è rimasta incinta ha pensato che il nascituro fosse del marito, però poi si vede che è stato chiesto l'accertamento del DNA, l'accertamento genetico, ed è saltato fuori che il bimbo è del tredicenne. Io l'articolo l'ho letto e ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Peccato che non si conosce come stanno le cose sul piano alimentare, cioè chi è che lo mantiene il bimbo? Perché la mamma non credo che possa mantenere il bimbo da sola, il bimbo deve essere mantenuto sia dalla mamma che dal babbo, il babbo. E adesso ci penseranno gli avvocati. Vedete, cari amici, che cosa succede, cosa succede? Siamo in patriarcato, io ne parlo del patriarcato in questa mia opera storico-mitrologica. In patriarcato è stata scoperta la funzione dello sperma, per cui gli uomini devono accollarsi la loro notevole parte di responsabilità. E per cui se un uomo con il proprio sperma mette incinta una donna e poi nasce un bimbo, una volta accertata la paternità, con l'accertamento genetico della paternità, e il padre, il padre, il papà deve mettere mano al portafoglio, capito? Deve mettere mano al portafoglio, capito, cari ragazzi? Sì, quando un boy o un man mette il proprio sperma dentro il ventre, dentro la fessurina di una girl o di una lady e poi nasce un bimbo, il boy o il man che ha contribuito a far nascere il bimbo, poi deve mettere mano al portafoglio e deve mettere mano al portafoglio per tutta la vita. Capito, cari amici? Di queste cose si parla in questa opera storico-mitologica, capito? In quest'opera storico-mitologica si spiega quello che è successo quando l'umanità scopre la funzione dello sperma, per cui ora tutti in libreria a comprare una copia di questa apprezzata opera storico-mitologica. A tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni. Grazie a tutti.